Vacanze meritate per gli alunni dell'Uniter di Praia a Mare. L'Università della Terza Età si ferma per la pausa estiva e domani chiude l'anno accademico 2011-2012. Corsi e lezioni interessanti per 32 giovani anziani che hanno ancora voglia di apprendere. Questi amici vengono all'Università della Terza Età, qui a Praia a Mare, soprattutto e soltanto con il desiderio di apprendere cose nuove, che non è un vatto da sottovalutare nella Terza Età, perché la Terza Età è l'età della libertà, uno finalmente fa quello che gli piace fare. Novità dell'anno il corso sulla storia della Costituzione italiana tenuto dal professore Ciro Cosenza. Se andiamo da ogni parte per l'area di riforma costituzionale, eccetera, ma molto spesso chi parla di riformare, non la mangoletta, insomma, e invece noi qui abbiamo voluto leggerla, interpretarla e commentarla. Quest'anno abbiamo avuto dei corsi molto interessanti. Incominciamo per esempio da quello tenuto dal professor Fabrizio Mollo, sull'archeologia del Medioevo nell'Alto Tirreno. Poi abbiamo avuto un altro corso di grafologia. Un perito ci ha insegnato come si può ricostruire la personalità dell'autore di uno scritto, partendo dalla grafica. Poi abbiamo avuto la continuazione di un corso che avevamo già attivato l'anno scorso, intitolato La salute nel piatto. C'è una professoressa, Mara Papa, che ci parla delle piante, come si possono usare nella medicina, ma anche nella cucina. C'è ancora un altro corso, questo lo ottengo io, sull'interpretazione esoterica della Divina Commedia. Le lezioni riprenderanno il prossimo ottobre. L'augurio del direttore dell'Uniter è quello di poter istituire altri corsi. L'Università della Terza Età ha una storia ormai consolidata alle spalle, esiste già da 15 anni, e solo grazie al sostegno dell'amministrazione comunale. È un merito dell'amministrazione comunale di Preamare, dal 1997 a oggi, aver istituito prima di ogni cosa questa università e poi averla sostenuta, specialmente in questo periodo, periodo di crisi, sotto ogni aspetto.